Direttore responsabile, Catiuscia Carpentieri. Cambiamo, cambiamo decisamente argomento. Parliamo delle fonti orali della storia, l'abbiamo già detto ampiamente altre volte di questo interessante progetto. Adesso questo progetto viene portato all'interno delle scuole coinvolgendo i docenti. Chi ce ne parla? Marcella Burriere, che accogliamo nel nostro studio. Buongiorno Marcella, ben trovata all'interno di Dolce Amaro. Buongiorno Marcella, accomodati nel nostro salotto. E allora, continua questo viaggio alla ricerca di fonti storiche tramandate in modo orale. Già abbiamo presentato altre volte questo portale telematico dove all'interno abbiamo inserito tutte quelle che sono le nostre conoscenze, che così finalmente non hanno perso, però adesso questo progetto fa uno step successivo. Infatti hai detto bene, continua, poiché è iniziato con un grande progetto, che è appunto quello Terra Matta, prodotto da Chiara Ottaviano per la regia di Quadriglio. E adesso poi ha preso un altro slancio con l'apertura di questo portale, che è un portale di interesse ormai diventato di tipo nazionale, perché sotto Napoli possiamo dire che non c'è niente di tutto questo che raccolga la nostra memoria. E quindi adesso c'è questa forte esigenza di allargare quanto più possibile queste tematiche al mondo della scuola, perché poi coinvolgono i ragazzi e le famiglie. Marcella, noi ci siamo visti un anno fa, forse più di un anno fa in realtà. Cosa abbiamo aggiunto a quel bagaglio culturale che abbiamo presentato lo scorso anno? Beh, basterebbe andare a dare un'occhiata al nostro portale archivio degli Iblei per rendersi conto della ricchezza che man mano si accumula, perché è un portale aperto, aperto a tutti coloro che desiderano appunto riversare parte della memoria. E si può fare in tanti modi con delle fotografie, con delle testimonianze anche registrate, con dei video. Tutto naturalmente sotto leggi dell'occhio attento di Chiara Ottaviano, che in qualche modo filtra sistema, perché magari capita che qualcuno di noi ha del bel materiale ma non riconosce l'importanza di una foto piuttosto che di una cartolina, di una lettera che ci dà invece delle informazioni importanti. Io sono curioso, adesso parliamo del progetto, però io sono sempre curioso di quello che fate su questo portale. Ma qualche chicca, qualche cosa che non ti aspettavi che avete scoperto, che avete trovato? Beh, intanto quello che non ci aspettavamo è il grande interesse in merito a questa cosa. Quando, per esempio, noi ci troviamo a passeggiare con le auto nel nostro territorio e girando l'occhio da destra e a sinistra, al di là dei muri a secco, si vedono, per esempio, delle costruzioni in muro, che siamo abituati a chiamare cosiddette muraglie. Invece scopriamo, grazie agli studiosi e al loro apporto, che questi si dividono in più di un settore. Ci abbiamo, per esempio, le neviere, ci sono i cosiddetti carcara, ci sono le carbonaie. E quindi guardi il territorio, grazie all'intervento di coloro che ti hanno mandato le fotografie con le notizie, che quello che ci era sembrato fino ad allora una casa troppo bassa, in effetti non era una casa troppo bassa, era una neviera. Un muraglio non è un muraglio, è una carcara che serviva a ridurre in calce la nostra pietra. Quindi le cose che ci sembrano ormai scontate, che non riusciamo a leggere, in effetti grazie al contributo di tutti riusciamo invece a distinguere e a leggere, a capirle. L'iniziativa è rivolta ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Ragusa. È parte del progetto Archivio degli Iblei, che ha lo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio artistico storico. Cominciamo dai docenti. E poi arriviamo casomai ai ragazzi, perché sono loro i portavoci. Beh, proprio a ottobre c'è stata una delle sessioni della scuola di storia orale, tenuta dall'Aiso, che è l'associazione di storia orale, presieduta da Giovanni Contini a Forlì. Da questa collaborazione stretta tra l'Archivio degli Iblei e l'Aiso, nasce quest'altro incontro. Questa volta nel profondo sud d'Italia, in quel profondo sud che era stato proprio attenzionato dalla scuola di storia orale, perché pur essendoci grande vivacità da questo punto di vista, non dobbiamo dimenticare personalità come Saro Mangiameli, come Uccio Barone, che sono esponenti di una corrente di storia orale che si appoggia appunto alle fonti orali, ma non c'era questo collegamento importante. Così appunto i docenti sono di fama nazionale, come Giovanni Contini, come Manlio Calegari, sono personalità che da sempre si dedicano a questo. Senti, noi siamo andati a curiosare nel sito, stiamo vedendo già alcune immagini. Ci vuoi dire qualcosa, ad esempio, di quello che stiamo... Beh, teniamo presente che queste sono delle immagini che sono state scansionate da chi le possiede e poi inviate all'archivio. È importante che chi fa questo lavoro metta quanto più possibile le notizie relative a quella foto. In modo da poter essere catalogata. In modo da poter essere catalogata da non rimanere una fotografia senza nessun legame. Invece, nel momento in cui possiamo leggere una fotografia, una cartolina, qualunque cosa che abbia un riferimento, ci può dare grandi... Per esempio, adesso mi viene... Per ricostruire determinate fasi della nostra storia. Prendete, per esempio, quanto può essere importante la storia raccontata rispetto alla storia scritta. Mi è capitato, neanche un mese fa, di incontrare una signora che oggi ha 93 anni, che saluto la signora Grazietta, è una signora di una pulizia mentale, di un ricordo nitido, netto, e parlando con lei di tante cose, perché quando incontro queste persone, parliamo dalla pasta, come la fanno, fino alle preghiere, ai punti, le chiedo se per caso qualcuno di loro aveva fatto la guerra, il padre, il marito, il fratello. Lei candidamente si alza con fatica, perché i suoi 93 anni se li porta tutti addosso, e mi ha detto, un attimo, ritorna dalla stanza accanto con un librettino. Lo apro e mi rendo conto di avere in mano il libretto del marito di quando lui è stato prigioniero in un campo di prigionia in Germania. in Austria. Un libretto di viaggio, un libretto di prigionia. Era il libretto di prigionia, quindi era un soldato che era stato prigioniero in un campo di concentramento. E quando le chiedo, ma ha delle lettere? Lei mi ha detto, sì, te le ho portate. Apriamo questi fogli che erano delicatissimi, li apro, e ci rendiamo conto in quel momento della differenza tra la storia orale e la storia scritta. Perché in apertura questa lettera dichiarava che il prigioniero avrebbe dovuto scrivere chiaramente e ammattita. Questo perché? Perché la censura faceva il suo intervento per cui qualunque notizia potesse uscire da quel campo doveva essere filtrata. Se noi quest'uomo non lo avessimo mai incontrato, se non fosse mai tornato a casa, non avrebbe mai potuto raccontare ciò che non ha potuto scrivere. Quindi ecco perché è così importante. Queste erano delle lettere che lui si è portato a casa che non erano passate. No, 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 erano passate, erano arrivate. Però erano sicuramente state o censurate o pulite. No, erano proprio di una semplicità cara, grazie, spero che stiate tutti bene, noi qui stiamo bene, aspettiamo che la situazione si risolva per tornare a casa, abbracciarvi tutti. Nessun riferimento alle sofferenze, nessun riferimento a ciò che stavano vedendo, a quello che avevano visto, perché non lo potevano fare se non fosse stato il suo ritorno a casa a raccontare gli incubi, quella signora mi raccontava degli incubi del marito, dei pianti improvvisi del marito all'inizio, perché quello che avrà visto poi lo ha raccontato la moglie e non tutto che non riusciva a verbalizzarlo, ma di queste cose, di questi racconti ce n'è moltissimi e quindi l'importante sarebbe quello di andare, mi chiedevi poco fa una chicca, proprio di qualche giorno fa, di una signora che, parlando di Santa Lucia, raccontandomi a dicembre di Santa Lucia, una signora mi disse, siamo nell'altopiano, siamo in zona Chiaramonte, mi disse, dice, Santa Lucia la Sarausana, avele i piedi come una iaddina, quando cammina, cammina a Bagliana, Santa Lucia la Sarausana, ve l'immaginate voi Santa Lucia che sembra una gallina? No, assolutamente, da dove viene questa? Da dove viene? Perché in effetti, dice in un altro modo, Santa Lucia la Sarausana, aveva un tuppo, un tuppo come una riglina, nel passaggio da dove proviene questo detto fino a Chiaramonte è diventata una gallina. Così, via, ma tornando al nostro corso. Sì, infatti, come questo poi lo portiamo nelle scuole. Certo, lo portiamo nelle scuole perché si cercherà di far capire ai ragazzi tramite innanzitutto gli insegnanti e poi ai ragazzi che ogni testimonianza raccolta, presa e conservata può essere di enorme importanza per chi domani resterà e resterà a raccontare il nostro territorio non solo storpiato come a Santa Lucia ma anche documentato. Certo. Documentato, quindi sono cinque incontri tre a marzo e due ad aprile. Come si fa a partecipare al corso? Bene, ci sono dei moduli di iscrizione, ci sono dei depli anche oggi trovate per lo più nelle scuole e soprattutto telefonando o scrivendo o facendo una mail al Feliciano Rossitto. Vogliamo vederlo insieme? Sì. Tutte le indicazioni sono sul retro del nostro... come qua. Le iscrizioni si accolgono entro il 21 febbraio del 2014 presso il Centro Studi Felicano Rossitto di Ragusa 0932 24 65 83 info chiocciola centrostudi felicianorossitto.it all'attenzione della signora Ornella Cappello per informazioni il professore Salvo Licitra 335 64 76 838 il corso è gratuito per i soci AMC UC IM ASPEI al termine del ciclo di lezioni sarà consegnato ai partecipanti che lo richiedono l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ASPEI UCIM riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione come soggetti qualificati per la formazione dei docenti esenti del decreto ministeriale 1211 del 5 luglio del 2005 direzione Chiara Ottaviano Benissimo Benissimo e allora noi invece ci fermiamo qui facciamo un boccalupo ovviamente per questo progetto è vero che è rivolto a tutti questi sono alcuni soci ma tutti tutti indistintamente possono partecipare trovate tutto tra l'altro costa 20 euro l'intero quindi non costa veramente nulla abbiamo un sito di riferimento chiara.ottaviano chiocciola cliomediofficina.it questo è l'email invece il sito dove abbiamo preso queste foto e lo ricordate perché io non ho l'indirizzo è l'archivio degli iblei esatto dove è possibile trovare tutto quello che stiate guardando durante la nostra intervista noi ci fermiamo qui come vuole la tradizione ora ce ne andiamo è bellissima ce ne andiamo a cucinare e poi torniamo perché tra pochissimo si gioca ora dopo e poi torniamo a cucinare è davvero nanno a cucinare